Ma quanto vi sta bene madonna, ma quanto vi sta bene Sto parlando con i tifosi viola presenti allo stadio, ma quanto vi sta bene sto risultato Io vi giuro, per quello che ho visto nella partita da Juventus Ciao Valentino Rossi come sempre, buon giro Per quello che ho visto, la Juventus meritava di vincere ma non con così ampio margine Perché la Fiorentina è stata una partita un po' lenta La Juventus non era proprio al 100% fisicamente Si vede che pesano gli impegni in settimana in Champions E dall'altra parte la Fiorentina comunque qualche contropiede buono lo ha avuto Ovviamente dopo ha sempre sprecato però questi affari loro Quindi voglio dire, un po' pesante come risultato Però guardate, sono proprio... Cioè, allora, a parte ovviamente il protestare dagli spalti per qualsiasi minimo contatto Ma vabbè, quello è abbastanza normale, più o meno Vabbè, per chi è sportivo non è normale Però per chi non è sportivo è normale Però, però, cioè, allora, c'erano tifosi juventini che si erano fatti la trasferta E non hanno neanche potuto cantare perché venivano zittiti dai tifosi della Fiorentina Cioè, ma quanto vi sta bene sto risultato? Ma quanto vi sta bene? Anche alle telecroniste di La Sette sta bene Perché porca miseria Allora, la Fiorentina faceva giusto un passaggio su dieci Veniva esaltato quel passaggio La Juventus sbagliava un passaggio su dieci Veniva marcato quell'errore lì su dieci Vabbè, mi sembra giusto E vabbè, poi veramente io non so di che caspita C'è qualcuno che se l'è presa con gamma perché ha reagito Grazie al cavolo Nel secondo tempo ci avete massacrato di falli Inutili anche perché sai Quando tu sei stanco, arrivi in ritardo Posso capirlo, però alcuni erano veramente falli stupidi Non era perché arrivavano in ritardo Erano proprio falli stupidi Quindi sinceramente non so di cosa si lamentassero dagli spalti Cioè, il motivo per cui cascavamo Era perché continuavate a farci un fallo dietro l'altro E gamma ha reagito per questo alla fine Si è anche presa la munizione Non deve reagire, però Caspita, quando ti fanno un fallo dietro l'altro È ovvio che prima o poi ti rompi le palle Comunque Comunque ragazzi, dai Beh, buon risultato Non so cosa abbiano fatto le altre oggi Ieri ha vinto il Milan Ha vinto la Roma E ha vinto il Sassuolo E siamo a pari punti con loro, mi sembra Aspettate, ho schiacciato serie A Devo so dire serie A femminile Perché se no non me lo trova Vediamo, vediamo, vediamo Comuniano ed Empoli Stanno giocando adesso Sta vincendo l'Empoli Inter Lazio ha vinto l'Inter Ok Ok, va bene Va bene ragazzi Sempre fino alla fine Forza Juve E ve lo ripeto Vi sta di un bene sto risultato Ah no, aspettate Non ho neanche detto i marcatrici Ero presa da sto discorso Allora ha segnato Doppietta Bonansea Era mangiata due gol Bonansea Però dopo ha fatto un gol Veramente un dribbling allucinante E l'altro gol è arrivato anche con un po' di fortuna Perché su una deviazione Nel nostro peggiore momento Il che le ha veramente messe KO Il 3-0 è arrivato con Cernoia Da calcio di punizione Diretto Bravi a tutte ragazze Oddio aspettate Ho gufato in una maniera clamorosa Mi sa che il Pomigliano ha pareggiato Al 97esimo Il Pomigliano ha pareggiato al 97esimo Mamma che culo Vabbè Scusate Non ho visto la partita per carità Però vabbè Quindi Quindi Siamo a pari punti Con Milan Sassuolo Inter E Roma A meno che non gufo Anche l'Inter Ma dubito E vabbè È normale Due giornate È ovvio che siamo a pari punti Con parecchie squadre Niente ragazzi Sempre fino alla fine Forza Juve In questo caso Juve Woman Ciao ragazzi